E ancora tutta una chiarire la dinamica della sparatoria di ieri sera durante la quale un agente è rimasto ferito di striscio ed è adesso ricoverato nell'ospedale di Villa Sofia. Dopo numerose perquisizioni nei casermoni del quartiere Zen, la polizia ha arrestato un italiano di etnia Rom che era la guida dell'auto sulla quale viaggiava il ragazzo che ha fatto fuoco contro gli agenti dopo un inseguimento e che adesso è ricercato. L'auto, una Hyundai Grigia, non si è fermata ad un controllo nella zona della Marinella Tommaso Natale ed ha finito la sua corsa in via Rocchi Marciano. Lì il passeggero ha estratto una pistola e ha fatto fuoco contro la volante colpendo uno degli agenti ma anche lui sarebbe rimasto ferito ad una gamba durante la sparatoria. A colpirlo è stato un ispettore, istruttore di tiro, che ha mirato le gambe del malvivente prima di essere ferito di striscio a un braccio. L'uomo arrestato in serata avrebbe fatto scendere il complice mettendolo così in salvo, circostanza che fa insospettire gli investigatori che ritengono che dietro al mancato rispetto dell'alt ci fosse proprio la necessità di impedire il riconoscimento del secondo uomo. L'ipotesi è che possa trattarsi di un ricercato.